Chiediamo la grazia di continuare ad essere la Chiesa unita, libera, lieta, vicina a ogni uomo e a ogni donna senza essere trascinata qua e là da ogni vento. Vogliamo chiedere di essere quella Chiesa che è immersa nella vita di questo tempo senza omologarsi al tempo in cui viviamo. Vogliamo chiedere la grazia di essere un segno di benevolenza della benevolenza di Dio per ogni uomo e per ogni generazione senza mendicare approvazione e consensi. È con un auspicio e una speranza certa, fondati sulla devota memoria dei pastori del XX secolo e dell'inizio del XXI, scomparsi e seppolti in Duomo, che l'Arcivescovo richiama il senso di un ricordare che non è solo un semplice rendere omaggio per altro doveroso, ma l'indicazione per un cammino futuro. Monsignor Delpini, che indossa la casula che fu del Cardinal Schuster, presiede in Duomo la celebrazione eucaristica di commemorazione, appunto, degli Arcivescovi Ambrosiani dei nostri tempi. Nel giorno della memoria liturgica del Beato Alfredo il Defonso Schuster concelebrano il rito oltre 40 sacerdoti, i membri del Consiglio Episcopale milanese con sei vescovi, i vicari di zone di settore, tra gli altri il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, i padri gesuiti Carlo Casalone e Giacomo Costa. Nelle prime file partecipano all'Eucaristia i familiari del Cardinal Martini, del Cardinal Tettamanzi, tanta gente. La memoria, le letture sono quelle proprie della Messa del Beato Schuster, si avvia con le parole introduttive dell'arciprete della Cattedrale, Monsignor Gian Antonio Borgonovo, che cita l'Omelia di San Giovanni Paolo II, pronunciata in occasione della beatificazione schusteriana, davanti a migliaia di pellegrini milanesi giunti a Roma. La memoria di questi nostri arcivescovi sia benedizione, conclude l'arciprete. L'immagine del portare molto frutto se si dimora nel Signore, come si legge nella pagina del Vangelo di Giovanni al capitolo 15, appena proclamato tra le navate, è il filo rosso che annoda l'intera, intensa riflessione dell'arcivescovi. L'immaginazione spontanea orienta quest'idea del dare frutto a un'interpretazione quantitativa. È tentazione molto diffusa perché è coerente con la sensibilità contemporanea che tende a valutare tutto con criteri quantitativi, che si tratti dei bilanci aziendali o dell'economia di una nazione o dell'esito di una iniziativa o di un programma pastorale. Ecco, tutto si può o si è tentati di valutare con le domande ma quanta gente c'era, ma erano di più o di meno dell'anno scorso, ma quanto abbiamo guadagnato. Ma, avverte subito il Vescovo Mario, sembra che questa valutazione quantitativa non sia del tutto coerente con lo stile di Gesù e il suo insegnamento, così come non lo è un successo qualitativo. E dunque il frutto si potrebbe vedere nell'attenzione alle parole degli uomini di chiesa che il contesto riserva quando si pronunciano. Oppure forse si potrebbe considerare nell'influsso che gli uomini di chiesa esercitano nel loro ambiente, nel loro tempo. E considerando il ministero dei pastori che questa sera vogliamo ricordare, come possiamo riconoscere che hanno portato molto frutto. Questo l'interrogativo, per dare risposta al quale basta ripercorrere le vite dei nostri Vescovi defunti più recentemente, trovando in essi un chiaro punto fermo. I nostri maestri nella fede, i pastori di questa chiesa, sono sempre vivi nella memoria e nel cammino della nostra chiesa. A loro, che sono così diversi e tutti così ammirevoli, a loro potremmo chiedere, ma qual è il vostro molto frutto? Qual è il frutto del vostro servizio che rimane? Pur così diversi, dicono una cosa sola. Mi sembra che così diversi tra di loro dicano però la stessa cosa. Abbiamo fatto molte cose, molto diverse, in tempi diversi, con stili diversi, con esiti diversi, secondo la cronaca mondana. Ma, in sostanza, abbiamo contribuito a fare la chiesa. In alcuni momenti la chiesa ha goduto di grande prestigio. Gli uomini di chiesa erano un punto di riferimento desiderato, apprezzato. E in altri tempi, invece, gli uomini di chiesa erano contestati, criticati, circondati di indifferenza o addirittura di disprezzo. Ma la chiesa ha continuato ad essere presenza amica, disponibile al servizio, fedele all'annuncio della parola evangelica. La chiesa di Ambrogio e Carlo, la chiesa di Schuster, di Montini, di Colombo, di Martini, di Tettamanzi. La chiesa che è in Milano, continua ad essere un segno del regno di Dio, anche attraverso di noi. E al termine della celebrazione arriva anche un desiderata dell'Arcivescovo. Vorrei introdurre nel prossimo anno pastorale anche un giorno per celebrare una messa per tutti i preti ambrosiani defunti durante l'anno e così, insomma, continuare a dire grazie a quelli che per questa chiesa hanno dato la vita. Infine la processione dei concelebranti con la preghiera sulle tombe del Cardinal Martini e dei Cardinali Colombo e Tettamanzi, asperse dall'Arcivescovo che bacia l'altare e le reliquie del Beato Schuster con la benedizione conclusiva. Amore, figlio e spirito santo, amico. Grazie a tutti.